Dai, salta su! Salta su! A scuola, in treno, in bus! Ci pensa la Regione! L'abbonamento è gratuito dall'elementare alle medie e se vai alle superiori e hai requisiti, puoi fare richiesta anche tu! E viaggi gratuitamente da casa a scuola e anche nel tempo libero! Scopri tutte le possibilità su regioner.it slash salta su! Salta su! In treno e in bus! È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna. Grazie a tutti!